Oggi parleremo degli additivi Liqui Moly Marine, le varie soluzioni che abbiamo a disposizione per i motori diesel e i motori benzina. Per quello che riguarda i motori diesel abbiamo tre possibilità. Il protettivo per motori diesel in generale, super diesel additive e antibatterico per gasolio. Protettivo generale per quello che riguarda i motori diesel. Questo è un cosiddetto additivo plurifunzione che ha diverse caratteristiche. Ha una componente di antibatterico all'interno, una componente antiossidante, una componente di lubrificazione e la possibilità di poterlo usare sistematicamente tutte le volte che facciamo in pieno. Super diesel additive ha una serie di opportunità come il protettivo per motori marini diesel, ma in più un miglioratore di cetani. Quindi miglioriamo la combustione diminuendo i consumi e migliorando le caratteristiche generali del nostro motore. Oltre ovviamente, come l'altro prodotto, mantenere pulito il sistema di iniezione dei motori diesel. Ultimo, ma non meno importante, grosso problema dei batteri nel gasolio. Oggi l'avvento di un gasolio moderno con una percentuale molto più alta di prodotto biologico fa sì che la combinazione tra umidità all'interno dei serbatoi e shock termici per quello che riguarda caldo e freddo che i nostri serbatoi subiscono durante le giornate e la diminuzione di temperatura durante la notte, fanno sì che si formino diverse condense all'interno dei serbatoi. Sono colonie batteriche che vanno a proliferare e solo grazie a prodotto chimico come il battery stop riusciamo a debellare. I tre prodotti sono assolutamente miscelabili tra di loro ma con caratteristiche diverse. Tutti i nostri additivi sono stati studiati appositamente per essere calcolati in base alla quantità di carburante per cui devono essere utilizzati. Per aiutare questo processo all'interno del nostro barattolo abbiamo un tappo dosatore. Vedremo successivamente ogni singolo prodotto le caratteristiche da utilizzarsi in base alle quantità. Grazie a questo tappo dosatore abbiamo la possibilità di utilizzare la percentuale giusta in base alla quantità di carburante che tiene il nostro serbatoio.